Ciao, sono Cinzia De Palco, esperta di local marketing e Google My Business, autrice del libro Storie di local marketing. In questo podcast ti darò spunti, idee, strategie e consigli per avere la fila fuori al tuo negozio e per far andare al massimo la tua attività di business. Buongiorno e ben ritrovati, sono Cinzia De Palco, voi siete su Marketing per negozianti, soluzioni vincenti per attività locali. Qualora non l'aveste già fatto andate subito ora su www.marketingpernegozianti.it e andate a scoprire subito la soluzione più efficace per il vostro business locale. Ma questo è il nostro solito martedì e abbiamo quindi un piatto diciamo molto più ricco da addentare e questa mattina parliamo di community sul territorio perché intanto mi chiedete ma queste community funzionano, non funzionano per la nostra attività locale, sono davvero così importanti? Partiamo con una definizione intanto di community. Pensate che la community rappresenta diciamo il corrispondente, la corrispondente aggregazione virtuale rispetto a quella territoriale. Riflettete, quando organizzate ad esempio un evento, una serata oppure un'apertura speciale nella città che è sede del vostro esercizio commerciale, le persone che aderiscono alla vostra iniziativa, chi sono e soprattutto perché lo fanno? Ve lo dico io, sono due le categorie di persone che partecipano. La prima è rappresentata naturalmente dalla vostra clientela abituale, no? Di affezionati. La seconda invece è rappresentata da tutti coloro che semplicemente sono entusiasti ogni qual volta si organizza qualcosa a livello territoriale, quindi c'è questo senso di appartenenza proprio alla località, sede dell'esercizio commerciale. La prima quindi i vostri clienti affezionati si sentono in qualche modo in dovere per diciamo contraccambiare per voi, per i prodotti o servizi magari ricevuti e non perdere quindi l'occasione di rinnovare la propria scelta, quasi come se fosse diciamo un atto di fedeltà. Ecco, la seconda invece, la seconda clientela come tipologia è invece aderisce diciamo ad un'iniziativa perché sente forte il legame con tutto ciò che riguarda la propria città, no? Quindi si mostra orgogliosa e non perde sicuro l'occasione di dimostrare il proprio senso di appartenenza. Una volta organizzato il vostro evento, come lo comunicate, come lo promuovete e qui vi voglio. Probabilmente sono sicura che investirete un bel po' di soldini, no? Per magari la cartellonistica stradale, per i volantini, i noleggi, un'auto brandizzata che gira per la città, sfruttate l'intramontabile passaparola e magari vi affidate anche a giornali locali. Oppure spesso altra cosa simpatica e funzionale fondamentalmente è quello di stabilire una partnership, no? Con altri esercizi commerciali della zona, è corretto? Immagino di sì, immagino che queste siano più o meno le attività a cui date seguito nel momento in cui decidete di fare una nuova apertura, un nuovo evento che riguarda la vostra attività. Ora trasferiamo tutto sull'online. So già a che cosa state pensando. Online le cose non funzionano, oppure le cose funzionano diversamente, poi diciamo le relazioni e i contatti con le persone sono freddi, non possono aspettarci, non possiamo aspettarci lo stesso successo. Su quest'ultimo punto devo dire che sono abbastanza d'accordo con voi, nel senso che non possiamo aspettarci la stessa cassa di risonanza del mondo reale, ma molto molto di più invece, perché non cadete anche voi nella trappola dell'investire nell'online solo per fare una prova, quindi senza troppa convinzione, senza neanche crederci troppo, perché partite da due principi fondamentali. Uno, dovete pensare che nel mondo dell'online è tutto misurabile. Che cosa vuol dire? Vuol dire che qualsiasi azione pubblicitaria voi facciate, dal post alla sponsorizzazione fino all'articolo scritto sull'evento, sul blog, può restituirvi dei numeri concreti e reali per poter fare dei ragionamenti e quindi magari poter poi applicare una strategia. Quindi grazie ai strumenti di misurazione potenti come Google Analytics, ma anche gli Insight di Facebook ad esempio, potete sapere esattamente e precisamente quante persone hanno cliccato su un post, cosa hanno fatto dopo, quanti utenti hanno letto il vostro articolo e persino quanto tempo hanno impiegato per farlo. Mentre vi chiedo sapreste mai quante persone hanno visto il vostro cartellone pubblicitario per strada e sono poi venute al vostro negozio? Allora siete d'accordo con me immagino, no? Quindi fatta questa premessa assolutamente doverosa, facciamo un attimo un passo avanti. Immaginate di radunare tutti i vostri clienti abituali in un grande luogo virtuale che chiamiamo appunto community. Qui proprio grazie al fatto quindi che siamo online i vostri clienti più affezionati possono restare in contatto con voi 24 ore su 24, chiedervi informazioni, condividere idee, relazionarsi diciamo così spontaneamente anche con le persone all'interno della community. Magari anche con persone che non conoscono personalmente, invitarne altre, quindi immaginate amici o conoscenti ed entrare a far parte quindi di questa community e favorire l'interazione. Ricordatevi una cosa fondamentale che da sempre sentirsi parte di un gruppo che condividono a qualsiasi cosa come può essere un interesse, una passione, un problema, un'esigenza rappresenta un fattore determinante per poter poi innescare quel senso di appartenenza che può diventare uno strumento potentissimo di business per la vostra azienda. Quindi avere una community che tutta vostra che parla di voi all'interno, dove all'interno avete i vostri clienti felici e fedeli che in maniera quindi del tutto naturale e direi inconsapevole diventano invece i vostri più efficaci promotori dell'attività. Ha davvero dell'incredibile. Quindi immaginate non addetti alle pubbliche relazioni esterni che sostanzialmente non hanno nessun sentimento, nessun legame rispetto al vostro business, ma persone che nel corso degli anni si sono affidate a voi, si sono affezionate a voi e che quindi si sentono ora felici di poter fare finalmente qualcosa per voi, per la vostra attività locale. Direi che è una cosa fantastica, ma come sempre c'è un ma, badate bene perché aprire una community di persone che vi seguono richiede impegno, dedizione e soprattutto presenza. Cioè non potete pensare di lasciare che vada da sé, in questo caso accadrebbero due cose. La prima è che dopo l'entusiasmo iniziale questo pian piano andrebbe a scemare, quindi portando la community ad essere vuota, anzi muta e ben presto quindi le persone chiaramente abbandonerebbero. La seconda è che le persone senza la vostra presenza, senza la vostra esposizione in prima persona, si sentirebbero in qualche modo tradite, poco coinvolte emotivamente e chiaramente prive di importanza davanti ai vostri occhi. Ciò capirete bene che non può assolutamente accadere. Quindi avete a vostra disposizione uno strumento davvero potente come le community, ma dovete gestirle e soprattutto dovete essere voi i protagonisti. Le dovete presenziare, altrimenti diventa un boomerang. Quindi siate presenti attraverso sondaggi, post, foto, racconti, video, condivisioni. Cercate il confronto continuo, l'interazione. Coinvolgete, date consigli, rispondete a tutto ciò che vi viene chiesto. Insomma fate trasparire il vostro lato umano, siate il punto di riferimento ogni giorno. Se saprete fare tutto questo potrete arrivare in maniera veloce, gratuita soprattutto, ad allargare il vostro bacino di utenza fatto non più quindi a dei clienti affezionati abituali, ma di persone che fino a questo momento non sapevano dell'esistenza del vostro negozio. Quindi mi raccomando per rispondere a questa domanda che mi avete fatto spero di avervi dato diciamo in maniera esaustiva spiegato alle community l'importanza delle community soprattutto che possono rappresentare un vero e proprio strumento potente di business soprattutto gratuito ma vanno assolutamente gestite, pensate, presenziate, altrimenti diventa un'arma a doppio taglio. E anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Come sempre io vi aspetto al prossimo martedì e vi auguro una splendida giornata. Ciao!